C'è un divario enorme tra gli ambiziosi progetti europei in materia di energia verde e la mancanza di personale qualificato per portare a termine questi lavori. Si può colmare in tempo? L'obiettivo è davvero quello di occuparsi dell'intera catena del valore della batteria. Oggi ci mancano le competenze perché la transizione è appena cominciata. Le biciclette e le auto elettriche sono il futuro per tutti noi. Ho scelto questo corso perché penso che possa essere il futuro. In ogni caso, le batterie sono il futuro. Benvenuti a Business Planet. C'è un'enorme carenza di personale qualificato nei settori net zero, come le batterie, il solare e l'eolico. L'Europa sta investendo milioni di euro in accademie specializzate. Incontreremo alcuni degli insegnanti e degli studenti impegnati in questo settore. Grenoble ospita una delle prime accademie europee per le batterie, frutto della collaborazione tra le aziende, tra cui il produttore locale di batterie Verkor, e diverse altre istituzioni e laboratori locali. Secondo le stime della Commissione europea, il solo settore delle batterie avrà bisogno di 800.000 persone da formare o riqualificare entro il 2025. Questo gruppo di studenti ha appena cominciato gli studi sull'industria delle batterie. Le batterie sono un campo nuovo di zecca. Sono giovane e quindi ho pensato perché non buttarmi in qualcosa di nuovo, qualcosa che mi possa portare solo cose buone in futuro. Per noi, in Francia, è una nuova avventura. Penso che l'elettricità, soprattutto le batterie elettriche, siano il futuro. Nel nord della Francia sono in fase di costruzione tre grandi fabbriche di batterie, tra cui il nuovo impianto di Verkor vicino a Dunkerque, che fornirà le batterie per la nuova gamma di veicoli alpini di Renault. Oggi le competenze, soprattutto per quanto riguarda la produzione di batterie, si trovano principalmente in Asia e negli Stati Uniti. A noi mancano queste competenze, perché la transizione è appena cominciata. Quindi affinché le aziende europee e i francesi possano insediarsi in questo settore, dobbiamo formare persone con queste competenze. La Commissione europea ha lanciato l'Accademia dell'Alleanza europea delle batterie nel 2021, con una sovvenzione di 10 milioni di euro. L'Accademia comprende una rete di scuole che ha l'obiettivo di formare giovani studenti che stanno continuando gli studi o che sono solo all'inizio, nonché dipendenti che hanno bisogno di riqualificarsi, passando dal lavoro con i veicoli termici a quelli elettrici. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha disegnato il 2023 come Anno europeo delle competenze. La Commissione intende istituire accademie per l'industria net zero e sta investendo 5 milioni e mezzo di euro. Le aziende hanno bisogno di lavoratori specializzati, ad esempio nell'installazione di pompe di calore e pannelli solari. Inoltre, servono lavoratori altamente specializzati anche nel digitale, e nella sostenibilità. A Lione, Eaten produce microbatterie ricaricabili, utilizzate in numerosi dispositivi, dalle carte di pagamento intelligenti agli impianti medici. Stiamo entrando in una camera sterile, dove ogni particella di polvere è importante, quindi è necessario proteggersi. La tecnologia si evolve molto rapidamente e per noi è fondamentale avere competenze che si evolvano al passo con queste esigenze. Per questo motivo, in Eaten, abbiamo sviluppato i nostri processi di produzione, i nostri prodotti, e abbiamo assunto esperti in ciascuno dei settori in cui siamo impegnati. Collaboriamo molto con laboratori ed università, che ci aiutano a sviluppare e formare il personale in queste competenze completamente nuove. Sebbene l'Europa sia in ritardo rispetto alla Cina in alcune aree net zero, Gaben ritiene che sia in vantaggio quando si tratta di sostenibilità. Tutte le nuove industrie che stanno nascendo in Europa integreranno queste tematiche di eco-design. Questo gli darà un vantaggio rispetto alle industrie di altri continenti. Nel 2022 Grenoble è stata nominata capitale verde europea. La città e l'Europa vogliono andare oltre, ma nessuno di questi piani potrà essere avviato senza le persone giuste. È tutto per oggi. Alla prossima puntata.